le medaglie assegnate per tokyo 2020 sembra che ci sia un tokyo 2020 vediamo un po gli eventi legati ai virus o virus che dir si voglia e però insomma comunque alcuni dicono che vengono spostate a Londra l'elimpiadi estiva insomma è uno degli scenari previsti ma insomma in ogni caso si pare che una quattro olimpiadi si faccia estiva infatti i ragazzi si stanno preparando per farla in tutto ciò c'è stata un'intervista di john bertrand durante il tf live il video podcast di tom emman il discorso john bertrand ha espresso tutta una serie di cose lui si occupa della performance del team con un'ottica molto statunitense centrata sull'obiettivo per cui faceva tutto questo discorso in cui dovendo giustamente gestire delle risorse che sono scarse anche gli stati uniti sono molto scarse per le scuole olimpiche e comunque non sono solo economiche ci sono sempre delle persone a volte migliore a volte peggiore che bisogna cercare di mettere in alcuni posti nelle decisioni lui appunto pensa a quali medaglie alle olimpiadi siano già diciamo assegnate cioè siano ci sono alcune nazioni che si sa già che in una certa classe prenderanno una medaglia magari non sarà oro magari sarà bronzo però sostanzialmente hanno degli atleti quindi vuol dire che arriveranno sicuramente entro i primi tre posti anche per il coni diciamo il problema è quello di prendere una medaglia non è quello di piazzarsi bene quarto quinto nei dieci cosa quello conta poco conta più per la federazione per la performance dell'atleta eccetera ma per il coni effettivamente quello che conta chi va a medaglia è il fatto di portare a casa una medaglia e in effetti è la stessa cosa lì negli stati uniti diciamo che john berkland che comunque non è uno scemo uno dei vestiti più forti al mondo è sempre stato a utilizzo un sistema molto molto analitico lui vede anche le performance all'interno della regata lui trasforma della serie regata lui trasforma tutto in grafici quindi vede diciamo il rendimento quei degli atleti e comunque se lo trasforma con i numeri effettivamente non è così sbagliato alla fine lui cerca di estrapolare una tendenza dalle prove che ovviamente sono più alta in alti però effettivamente per marcare il livello di un atleta sicuramente non è male analizzare in quel modo lì soprattutto fatto da un tecnico che poi magari rimuove contro performance in modo tale che non gli rovinio la statistica effettivamente funziona molto bene per quanto riguarda le medaglie locked oppure le medaglie likely diciamo che se tu devi alloccare delle risorse devi investire tu come paese devi investire o su quelli che sono i tuoi atleti che hanno già alloccato una medaglia oppure devi investire in una classe dove non tutte le medaglie siano locket oppure non ti sia più aperta possibile esatto esatto per cui è inutile per dire investire in una classe in cui sappiamo già che ci sono tre nazioni che hanno la loro medaglia locket per cui non sappiamo se chi arriverà all'oro chi ha l'argento chi ha il bronzo ma sappiamo che quei tre posti lì sono bloccati quindi è una diciamo bisognerebbe allocare un sacco di risorse per riuscire ad arrivare a quel livello lì abbiamo già una barriera diciamo oltre qui è difficile andare certo quindi insomma la cosa interessante è che lui comunque ha fatto proprio un elenco di quelle che erano le medaglie locket e non locket nelle varie classi cioè lui proprio ha già detto guarda nel senso il 470 classico 470 ovviamente gli australiani è quasi sicuro che prendano la medaglia così come anche il 480 maschile è quasi impensabile che i neozelandesi non prendano la medaglia vincono sempre tutte le regole da non so quanto tempo a questa parte per cui è quasi impensabile cioè nel fin pensare che un inglese o anche il neozelandese per come ha dimostrato di essere in forma e di essere in palla non prendono la medaglia è quasi impensabile insomma queste medaglie qua dovrebbero essere sostanzialmente persi dagli altri gli stessi esatto il fatto che non che non le facciano vuol dire che proprio vanno incontro ad una contro performance oppure un grave infortunio fisico o comunque una qualcosa di veramente veramente strano la cosa interessante è che l'Italia non ha per John Vernon non ha una medaglia locket che sia una quindi diciamo secondo il suo sistema e secondo la sua idea molto probabilmente io posso pensare che l'Italia sia considerata likely nei Nakra dove sarebbe stata locket probabilmente fino a pochi mesi fa e sostanzialmente anche nel diciamo nei Windsor probabilmente i 2470 chiaramente chiaramente i 2470 potrebbero essere delle medaglie delle medaglie likely anche effettivamente Ferrari Calabro o Capurro Puppo insomma comunque hanno avuto attratti delle performance molto buone e anche lo stesso delle ragazze assolutamente sono anche se non hanno ancora ottenuto il super risultato a livello mondiale perciò comunque sono state a volte veramente insomma sono dimostrato di essere sicuramente valide e non penso che possiamo essere likely da nessun'altra parte cioè il resto delle classi molto probabilmente sarebbero delle super performance si esatto si parlerebbe di una cosa diciamo fuori dall'ordinario esiste sempre il dato fuori statistica a tutto esatto a volte verso l'alto a volte verso il basso però è un dato che è fuori statistica certamente se succede all'elitia di poi fa più statistica a lui nel senso che fa medaglia però è una cosa difficile che accade insomma esatto però insomma certamente diciamo c'è da lavorare questo è sicuro esatto ovviamente questo tipo di analisi di analisi e questo tipo di obiettivo non vale per tutto il quadrienne olimpico cioè uno deve nei primi diciamo nel primo periodo del quadrienne olimpico deve anche cercare di sviluppare classi che magari fino a poco prima erano bloccate perché poi dopo finito un quadrienne olimpico uno deve anche le cose cambiano ecco però arrivati ad un certo punto anche solo a metà del quadriennio però fare questi calcoli e concentrare le risorse dove le medaglie possono diventare likely o sono già locked è molto importante insomma assolutamente assolutamente diciamo che l'unica una falla che io vede in questo ragionamento è che se tu comunque fai un sacco di regate in condizioni abbastanza simili tra loro e poi in realtà magari ti perdi insomma tutte le rigate con onda e vento forte in vento no con un acrado e comunque i nostri sono sempre stati fortissimi è ovvio che la tua statistica rimane fallata esatto magari potresti avere delle idee un po' diverse un po' diverse in un altro tipo di rigata potresti farti un'idea e anche una statistica un po' diverse insomma comunque chi fa le statistiche deve anche considerare questi parametri difficile di fare la statistica non è mettere i numerini uno in fila all'altro ma è giudicali esatto quindi ragazzi c'è da lavorare e noi facciamo il tifo esatto facciamo il tifo bravo guardate guardate ciao 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 ciao